Il ministro dell'ambiente Sergio Costa sarà il candidato alla presidenza regionale della campagna per il Movimento 5 Stelle ad annunciarlo nella giornata di ieri la consigliera regionale Valeria Cerambino che con un video su Facebook ha lanciato la candidatura di Costa per le elezioni che si terranno in primavera. Prima dell'annuncio la Cerambino era data in pole per essere il volto del Movimento 5 Stelle alle regionali ma poi è arrivato il suo passo indietro per permettere la candidatura del ministro. Con umiltà sento di dire che c'è una persona più capace di me di parlare a tutti questa persona per me Sergio Costa oggi ministro dell'ambiente un uomo dello Stato che da generale dei Carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l'ambiente. Spero davvero che le voci di coloro che nel nostro territorio sono punto di riferimento per tanti cittadini possano levarsi a supportare questa persona per bene. Parole di supporto importanti quelle della Cerambino che conclude parlando di svolta. I cittadini campanici chiedono una svolta e chi fa politica deve sentire il dovere di compiere le scelte migliori. Io questo dovere lo sento e sono convinta che Sergio Costa sia la scelta migliore. Io sarò in prima linea e ho proposto la mia candidatura al Consiglio regionale e lavorerò a testa bassa come ho sempre fatto. E se Sergio Costa dovesse essere il nostro candidato presidente io lo sosterrò e sarò al suo fianco ancora di più convinta che così riusciremo finalmente a dare risposte ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle con Sergio Costa trova come presidente una figura di spessore per le elezioni regionali e il supporto che il partito sta ricevendo per questa scelta fa capire la forza che avranno quando si andrà alle urne.